Salve a tutti i telespettatori. Oggi allo studio dialettica canteremo per Natale l'attesa della vigilia, una canzone di Rosa Balestieri in dialetto. Lo sapevate che cos'è un ufficio? No, ma non lo sapete, allora... O la notte di Natale c'è la festa principale, e nasci un ubbammini e tu mezzo l'uvoi e l'asinetto. E nasci un ubbammini e tu mezzo l'uvoi e l'asinetto. E su, sì, pastore, non dormire più, non vedi che è nato un bambino Gesù. E su, sì, pastore, non dormire più, non vedi che è nato un bambino Gesù. Aspettati, mi dà anche chiedza, quando arriva l'upagliaro. Mi scordavo la putta scredda, la città, su, di un giovanaro. La raccina, se ciò, puttino, mi putta la Gesù. Su, bambino, e su, sì, pastore, non dormire più, non vedi che è nato un bambino Gesù. E su, sì, pastore, non dormire più, non vedi che è nato un bambino Gesù. Pipidoni senza sali, cavini ricciavini, ignari. Culu patto, gatti, pazzo, carascina, un tinnam manciari. Culu patto, gatti, pazzo, carascina, un tinnam manciari. E su, sì, pastore, non dormire più, non vedi che è nato un bambino Gesù. E su, sì, pastore, non dormire più, non vedi che è nato un bambino Gesù. Non vedi che è nato un bambino Gesù.